A mezz'ora improvviso vantaggio romanista, Peirot tocca una punizione per Taccola che fulmina in rete. 5 minuti dopo Ferrari serve Jair che fa proseguire Scaratti che tira, respinge Brotto e Taccola di testa raddoppia. Un cross di Brülse respinto corto e raccolto da Kolausig che tira a colpo sicuro. Strepitosa parata di pizzaballa applaudito da Ossola, abbracciato da Cappelli.